La Costilla Amalfitana, tramvia del Vesuvio che si fregge di servizio pubblico, si tange dietro e in effetti effettua solo poche fermate. Carlo, voi siete dei pilastri del turismo di qualità, di posibilità della Costilla Amalfitana. Secondo voi la Costilla Amalfitana potrà essere un posto d'eccellenza in quanto verranno mostri del genere? Non solo questo, ma tutti parliamo in generale. La parola mostro è ben appropriata, è proprio da questi mostri che noi dobbiamo avere paura che il nostro turismo sia trasformato da turismo di eccellenza in turismo di massa. Il nostro è un paese piccolo, sono paesi piccoli, tutta la Costilla Amalfitana è composta da paesi piccoli, che non possono per forza dei numeri, per la matematica, diventare dei posti di turismo di massa. Siamo destinati a essere turismo di qualità. Guardate questo che stai combinando. Questo non è niente. Ci siamo trovati un momento che è tranquillo, perché se mi è pomeriggio è tranquillo. Prima c'è la mattina che succede? Facciamo che succederebbe. In versione di marcia è un incrocio. Non è questo il modo per fare turismo di qualità, Carlo. Grazie, grazie. Questa parola. Grazie a tutti.